Il Futurismo è il primo movimento d'avanguardia italiano e nasce a Milano dall'incontro tra un gruppo di artisti e l'intellettuale Filippo Tommaso Marinetti. Nel 1909 Marinetti pubblica a Parigi sul quotidiano Le Figaro il Manifesto del Movimento. Si tratta di un documento scritto in cui propone il rinnovamento della cultura, della società e dell'arte eliminando l'oppressione che deriva dai modelli del passato. I futuristi esaltano la modernità, la velocità, il movimento, il progresso tecnologico e industriale e creano un nuovo canone di bellezza in opposizione a quello classico. Dicono noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è arricchita di una bellezza nuova, la bellezza della velocità. Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo, un'automobile ruggente che sembra correre sulla mitraglia e più bella della vittoria di Samotracia. E la data ufficiale della comparsa di un'architettura futurista può essere fissata l'11 luglio del 1914, quando viene pubblicato il manifesto dell'architettura futurista firmato da Antonio Sant'Elia, che nasce a Como il 30 aprile 1888 e nel 1914 parte volontario per la guerra. Muore sul campo di battaglia presso Monfalcone il 10 ottobre 1916 a soli 28 anni. Scrive «Sentiamo di non essere più uomini delle cattedrali, dei palazzi, degli arengario, ma dei grandi alberghi, delle stazioni ferroviarie, delle strade immense, dei porti colossali, dei mercati coperti, delle gallerie luminose. È evidente l'aspirazione a superare la visione di tanti singoli edifici monumentali in favore di una prospettiva più ampia del contesto urbano». Nello studio per una centrale elettrica, che è un inchiostro nero, verde, rosso e matita nera su carta, della dimensione di 30 x 20,5 cm, l'architetto ci mostra un edificio caratterizzato da alte ciminiere, che si staglia potente come un tempio antico su un paesaggio industriale, con alte mura e serbatoi. La costruzione è priva di decorazione delle superfici. L'architetto usa soprattutto linee oblique ed ellittiche, perché sono molto più dinamiche rispetto alle linee verticali e orizzontali. La centrale elettrica è emblema di modernità tecnologica in quanto generatrice dell'energia che mette in funzione le macchine. Nella stazione d'aeroplani e treni ferroviari con funicolari e ascensori su tre piani stradali del 1914, un inchiostro in matita su carta della dimensione di 50 x 39 cm, la città del futuro sembra in continuo movimento. Ecco perché è necessario progettare stazioni che prevedono il veloce passaggio dall'automobile al treno e dal treno all'aereo. L'architetto ci mostra gli ascensori in quanto strutture funzionali che sono rigorosamente in vista. È interessante notare come l'artista in questo disegno abbia imposto una visione dall'alto della stazione ferroviaria e dalla pista di atterraggio dei veivoli, suggerendo così allo spettatore la sensazione di trovarsi effettivamente molto in alto, proprio su un aereo. Sant'Elia dà forma sulla carta alla sua idea, per certi versi utopica, di metropoli moderna, della città nuova che non si preoccupa di nascondere le infrastrutture di servizio, ma anzi le progetta con cura come elemento caratterizzante anche dal punto di vista estetico. Nel manifesto Sant'Elia scrive bisogna abolire il decorativo, in chiara polemica con il gusto neogotico e neorinascimentale diffuso in Italia nel primo novecento. Dunque funzione e non decorazione per una bellezza che diventa quella dell'industria e della tecnologia.